Torna questo weekend a Certaldo la Bocca Cesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali arrivata alla 24esima edizione. Alla manifestazione organizzata da Confesercenti e presentata nella sede del Consiglio regionale si uniranno anche alcuni esercenti locali che prepareranno piatti di degustazione e street food. Ritorna anche dopo due anni difficili, quelli della pandemia, con edizioni molto più contenute, molto meno strutturate ad essere una Bocca Cesca piena, piena di tutto il suo mercato enogastronomico di grande qualità con la presentazione dei prodotti toscani e non solo e con tutte le attività. Noi ricordiamo sempre che Bocca Cesca è stata un po' precursore degli chef che si esibiscono davanti a un pubblico ben prima di tanti programmi televisivi ora noti che poi hanno fatto la storia di un pezzo della televisione. È da annusare, da toccare, da guardare e naturalmente da assaggiare. Allora, un'edizione siamo ritornati alla Bocca Cesca di sempre, quindi con i nostri cuochi, con il nostro angolino dedicato ai bambini. Quest'anno di novità e gemellaggi che ci ha fatto un gran piacere a tutta la comunità di Certaldo e poi cibo, arte e di nuovo cibo.